Noi questa sera tratteremo... I minuti della Presidente Anna Di Carlo e della Dottoressa Anna Maria Quaglietta, medico del Centro Trasfusionale dell'Ospedale Civile di Pescara, ci sono stati il talentuoso Andrea Piazza che ha cantato due brani di musica leggera, il giovane Marcos Marcelli che si è esibito nell'inno della Fidas, altro momento atteso quello dedicato al campione di motociclismo Federico D'Annunzio, testimonio al Fidas che ha preceduto la sfilata dei contributi dei sostenitori dell'Associazione. Io dono il sangue solo all'Agenzia delle Entrate. Donate il sangue e voi che ce l'avete perché è importante e serve a tutti e prima o poi servirà anche a noi. La solidarietà invece, tu hai lavorato per la solidarietà in più occasioni? Ma in tante occasioni, quando mi invitano sono disponibile nei limiti del possibile, partecipo sempre ad eventi benefici, di iniziative benefiche. Non mi sono mai sottratto perché mi piace, non mi costa niente ed è bello stimolare la gente in questa direzione. Siamo abituati a vederti in scene in cui il sangue ha un altro significato per Don Pietro Savastano. Sì, proprio per questo io mi spendo molto in incontri pubblici così perché mi piace creare questo shock drammatico. La gente si aspetta un personaggio cattivo e invece poi i contenuti che vogliamo portare sono altri. Quindi approfitto proprio del fatto che mi presentano come cattivo. Ragazzi mi dicono che qui siamo a 7.000 e qualcosa come donatori e bisogna so poco. So poco, voglio, mi raccomando, venga a cerca uno per una. A casa. Grazie a tutti.